Allora, vediamo uno dei cili più strani che abbiamo mai visto. Ho diviso, innanzitutto diviso metà, così, ma poi beccatevi ste nuvole che forma. Ma che sono veramente stranissime, perché non so se rende bene, donna mia, ma è stranissima. Mink, è incredibile, è incrediboli, mi sembrano delle pietre, delle pietre, al contrario. Ma come al contrario, le pietre hanno mica un verso? Scusa, e invece, i vetrini di quando guardi... Ma non c'entra niente mai quello che dite. Ma che cazzo vuoi? Ma non rende tanto bene. Ma poi in televisione ne prenderebbe... Ma di no, no?